Salusa 30 maggio 2011. In tutto il mondo, la trasformazione della coscienza continua a crescere, galvanizzando l'azione un numero sempre più elevato di persone. Si sta facendo strada la convinzione di poter esprimersi su come si intende condurre la propria esistenza. Finora avete in pratica dato carta bianca ai vostri governanti e, chiaramente, le loro decisioni raramente coincidevano con i vostri reali bisogni. Spesso, infatti, è vero il contrario e voi siete stati ignorati, mentre loro attuano i loro programmi politici. Adesso, comunque, state cominciando a comprendere quanto siete stati ingannati e condizionati, e l'insoddisfazione nei confronti della classe politica aumenta. Ora state iniziando a vedere chiaro, che siete capaci di riprendere in mano i vostri sacri diritti, di conseguenza, la spinta sempre più forte verso il cambiamento non può essere ignorata ancora a lungo. Conformemente alla legge d'attrazione, i vostri appelli devono ottenere risposta e potete esser certi, che energie supplementari saranno aggiunte alle vostre. Insieme alle esigenze di Madre Terra, tutto ciò sta provocando una trasformazione, che intensifica i cambiamenti, che stanno per verificarsi. La Terra è viva e in piena attività e si sta avviando verso un finale, che vi porterà rapidamente all'ascensione. Poco importa che si tratti di gruppi piccoli o grandi perché, alla fine, sarà uno sforzo collettivo, dotato di grande potenziale. Di conseguenza, continuate a lavorare bene, perché questo contribuirà ad accelerare la fine degli oscuri, togliendo loro possibilità di procedere come prima. La Federazione Galattica lavora sempre lacrimente per garantire il sostegno ai suoi alleati affinché possano presto compiere un importante passo avanti. L'opposizione nei nostri confronti è enorme, perché ci è stato conferito il potere di introdurre nuove regole, che cambieranno il mondo degli affari, che dovrebbe avere a cuore gli interessi della gente ed operare con chiarezza. I piccoli investimenti saranno privilegiati, perché più facili da gestire e controllare. Ricordate anche che, con le nuove tecnologie, molte cose, che ora vi sembrano indispensabili, si riveleranno inutili. Non preoccupatevi dei beni personali perché, una volta avvenuti i cambiamenti, tutti saranno agevolati e la ricchezza sarà distribuita più equamente. Diventerete autosufficienti e si ritornerà al baratto, perché i sistemi monetari alla fine non serviranno più. Ogni cosa su cui oggi fate affidamento, cambierà per il meglio e questo in conseguenza della distribuzione a livello mondiale di nuove tecnologie, che provvederanno a tutte le vostre esigenze. Non solo, ma progredendo, la qualità della vita migliorerà totalmente, offrendovi un primo assaggio di quella che sarà una volta ascesi. Sarà un cambiamento molto rapido rispetto al vostro odierno quotidiano, che vi libera anche dai rigidi controlli cui siete oggi soggetti. Non dimenticate che a quel momento saremo con voi per partecipare a tutti questi eventi, e che vi guideremo lungo il percorso spirituale, tracciato per voi tutti. Naturalmente, l'ascensione rappresenta il punto focale e faremo in modo da mettervi in grado di raggiungerla. Questa è la nostra missione ci siamo impegnati a far sì che voi Madre Terra raggiungiate in tutta sicurezza la vostra meta, e così sarà. Quantunque la vostra vittoria sia certa, è pur sempre essenziale, che vi manteniate focalizzati sull'ascensione, così facendo potrete rendere, in qualche modo, più facile e meno caotico il vostro percorso. Possedete, infatti, il potere collettivo per generare veramente una grande differenza occorre soltanto agire all'unisono e continuare a portare luce sulla Terra. State già cominciando a farlo e potete vantarvi di aver reso impossibili i tentativi degli oscuri di controllarvi al punto di impedire l'ascensione. Non rallentate quindi il vostro tenace impegno di lavorare con la luce, perché essa costituisce la vostra arma d'amore, più potente di qualsiasi altra. Sicuramente, ogni giornata vi offre la possibilità di aiutare i vostri compagni di viaggio, anche se solo con un sorriso ed una parola gentile sarete sorpresi si sapere quanto un piccolo gesto possa illuminare la vita altrui. Ci sono talvolta momenti in cui il livello di coscienza è tanto elevato da consentire di rivelare la verità sull'ascensione, perché molti hanno inteso parlare del 2012, pur non comprendendo molto del suo significato. Non occorrono spiegazioni dettagliate, ma solo la promessa di pace e dell'età dell'oro, che susciterà in loro speranze, focalizzandoli su un futuro privo di paura. Ci rallegriamo che Internet sia relativamente privo di controlli, dando alla gente la possibilità di esprimersi liberamente. È un campo minato per le scelte e le diverse opinioni, che offre, inclusa la sistematica disinformazione, occorre pertanto usarlo con discernimento e buonsenso, perché nessuna fonte di luce veritiera creerà mai angoscia. Se qualcosa non vi convince, lasciatela perdere fin quando non sarete in grado di decidere in merito o con certezza. Una volta diventati consapevoli di voi stessi in quanto esseri spirituali, l'esistenza terrestre può diventare una splendida esperienza, malgrado gli aspetti negativi e le battaglie per sopravvivere. Ogni prova superata con successo affina le vostre qualità spirituali, ponendole a livello superiore. In seguito, sarà più facile superare prove persino più severe ed elevarsi al di sopra di esse. Evolvere fu l'unico scopo delle vostre incarnazioni nella dualità e poco o nulla può essere paragonato al valore di tali esperienze non dubitate neanche per un attimo, che vi offriste come volontari sulla Terra, unicamente a tal scopo. La vostra ricompensa è di vivere la fine di questo ciclo finale di dualità, nonché l'elevazione a regni che possono essere descritti solo come paradisiaci. Il fatto che alcune anime possono lasciare il corpo a volontà e visitare le dimensioni superiori, è importante perché in grado di riferirvi le loro scoperte. Talvolta intravedono i livelli di luce che voi raggiungerete e descrivono la bellezza perfetta, la pace e l'armonia. Naturalmente, esistono livelli più vicini alla Terra, quali le regioni astrali, le cui vibrazioni non sono molto elevate. Persino quella che chiamate Summerland vi offre un'indicazione su quanto aspettarvi. La terza dimensione non è la vostra vera dimora e, per questo motivo, nel profondo del cuore desiderate ardentemente ritornare ai regni superiori. Istintivamente sapete che la vita ha un significato molto più profondo di come la state sperimentando ora. Io sono il Siriano Sallusa e so che in un futuro non troppo distante noi della Federazione Galattica saremo da voi accettati e potremo liberamente unirci a voi. Sarà lo sviluppo più che naturale del nostro rapporto, essendo stati insieme già molte volte. Migliaia di anni fa abbiamo assistito alla scomparsa della vostra ultima civiltà quella di Atlantide ma stavolta festeggeremo insieme la vostra vittoria. Grazie, Sallusa. Miche Quinn 6. Traduzione Costanza 2003